amici buongiorno da me molto triste spero di uscire nei vostri per te perché il mio vecchio contatto me l'hanno bloccato che era arrivato a 103 mila follower ma non peraltro per i follower però comunque ci avevo messo tempo ed ero contenta alla fine è un bel risultato invece non so chi me l'ha fatto bloccare lo sei bloccato non ho nemmeno capito perché non mi fa cedere più quindi ho perso il contatto e c'è questo contatto nuovo quindi amici miei spero che mi iniziate a seguire anche qui ritorniamo più forte di prima perché veramente non ci volevo questa cosa mi sento molto 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 triste quindi se potete aiutarmi seguitemi ragazzi questo è quando mettete la pellicola di vetro guardate qua non si stacca poi c'è il mio cliente avanti a me venuta provenuta ha detto c'è la pellicola di vetro perché non riesco a venire da te cioè finalmente ce l'ha fatta quindi possiamo dire addio a questo ok ora andiamo a mettere una bella pellicola ceramica aspettate ora applichiamo una bella martishock 3.0 su questo iphone 4.0 nero su nero guardate qua protezione alle fotocamere che non può mancare e guardate i dettagli ragazzi delle mie cover le ganchi belle pulite buona sera buona sera buona sera Grazie mille a voi, ciao. Grazie mille a voi. Prossimo video risultato finale. Iphone 14 Pro Max. Abbiamo messo una bella pellicola privacy opaca, giusto privacy opaca. Guardate qua. Ceramic indistruttibile. E infine una bella Marty Cycle da 9,99. Puliamo per bene il telefono e mettiamo la cover. Guardate qua quanto è bella. Protezione alle fotocamere, cosa molto importante perché queste non sono fotocamere ma cannocchiali. E infine guardate qua il risultato finale. Telefono bello, pulito e semplice. Sono Dani Martina, seguitemi amici miei. Ragazzi differenze tra la mia cover e quella cinese. Vi faccio vedere. Questo è? Iphone 13. La preghiera no? Oppure? Azzurra, verde? No, 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 no. Vabbè. Differenze, guardate. Questa è quella cinese, cerchio piccolo e questo vuoto qua, raga, fa la macchia sul telefono, quindi no. Questa è la mia, cerchio grande, così la battery pack attacca, ok? Quindi prendete questa qua a 9,99 e poi un'altra cosa, bellissima. Gente, applichiamo una bella pellicola privacy pack per iPhone 13. Ceramico ovviamente, indistrusibile. Ma qui cosa le do? Mi scopri? Mi scopri, mi scopri, mi scopri eh. Vendiamo il telefono. Torniamo. No, allora prepariamo gioco. Ma non puoi fare prima parte. Quasta bucola? dinheiroistratutto no c'è faccio嗎? ? Dio , a 21不ocaram por份 certeza. ecco fatto vedete? privacy ragazzi questa è la migliore acquistatela www.nimartina.it continuiamo e non ci fermiamo con un bel iphone 12 pro max questo mio cliente vuole mettere una bella pellicola ceramic privacy opaca ragazzi perché tutti scelgono le ceramiche perché le ceramiche non si rompono e poi durano veramente tanto 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 tempo e in più ora l'abbiamo fatta anche privacy quindi voi potete scegliere la pellicola che volete lucida, normale privacy, non privacy, privacy lucida, privacy opaca veramente non ci manca niente quindi guardate qua abbiamo pulito il nostro telefono e ora andiamo a mettere la nostra pellicola ceramic privacy opaca la appoggiamo e la stendiamo ragazzi la cosa bella che anche da casa subito la mettete cioè non è che sono quelle pellicole brutte no, guardate qua privacy opaca senza una bolla perfetta e non è che sono io si mettono proprio da sole così quindi acquistatela www.nimartina.it e seguimi risultato finale abbiamo messo la pellicola ceramic privacy questa qua opaca e in più andiamo a mettere una bella marty cycle così che se mettete la battery pack con il mug safe non dovete togliere la cover perché con questa potete usarlo quindi la mettiamo ragazzi tutto sigillato tutto protetto tutto indistruttibile protezione alle fotocamere quindi se si rompe una cosa si rompe sempre prima la cover e poi la vostra fotocamera speriamo di no e guardate qua eleganza e bellezza solo Danio Martino aiuto risultato finale di questo 13 pro pellicola ceramic privacy opaca e la mia cliente ha messo una bella cover glitter protettiva guardate qua 9,99 e 9,99 bellissimo noi Danio Martino brilliamo come voi che mi fate bloccare i contatti gente che mi fate risultato finale su questo iphone 14 pro max pellicola ceramica semplice e dietro una bella marty shock 3.0 con protezione alle fotocamere guardate dettagli in alluminio sui tasti indistruttibile viola 999 la cover e 999 per la pellicola bellissimo il mio cliente era indeciso tra marty shock verde marty shock nera io dicevo verde lui ha scelto nera però guardate quanto sono belle le faccio vedere tutte e due verde bella verde comunque è nera però niente ragazzi non c'è verso non vuole cambiare idea lui già cliente mio già la pellicola ceramica la trovate sul mio sito www.numartina.it oppure venite in negozio allora ragazzi colpo di scena alla fine ho vinto io la mette verde eh sì perché già aveva la ceramica nera quindi bellissima raga so no no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti